salve a tutti amici di amazon unboxing semplice quindi video diviso in due parti la prima parte riguardo solo l'unboxing la seconda parte lo andrò a collegare vi faccio vedere come funziona quindi partiamo allora la scatola è questa qui abbiamo una cornice che avvolge la scatola in cartone e all'interno di questa scatola che adesso andiamo ad aprire c'è il nostro meraviglioso epilatore laser eccolo qua confezione veramente impeccabile perfetta quindi abbiamo il nostro dispositivo ok con due pulsanti uno è questo qui che per l'accensione questo qua è per andare a mandare l'input del flash ma lo vediamo dopo quando lo andiamo a collegare al di sotto di questo di questo piccola confezione dell'epilatore abbiamo una piccola guida rapida ok che vi va a indicare in sei semplici passaggi come andare a utilizzare il dispositivo in maniera corretta abbiamo questo libricino per la garanzia abbiamo il manuale con tutto ciò che dovete sapere sul prodotto entrando però nel dettaglio e poi abbiamo gli accessori quindi partiamo con gli accessori qua dentro abbiamo gli occhiali da sole protettivi dato che il flash che metterà il dispositivo potrebbe dar fastidio o neanche in altri casi danneggiare gli occhi quindi abbiamo questi pratici occhiali da sole che in plastica che fanno ciò per cui sono stati costruiti ovvero proteggere gli occhi ok da una luce che si non è fortissimo però comunque noi preveniamo e poi qua dentro cosa abbiamo qua dentro abbiamo il nostro abbiamo un cavo per far funzionare il nostro alimentatore abbiamo anche un comodo e pratico comodo e pratico rasoio che adesso vi faccio vedere abbiamo un rasoio a quello qua ben confezionato perché giustamente per far funzionare c'è per eseguire un ottima una buona depilatura e pilatura bisogna prima radere la zona interessata ok vediamo adesso il l'alimentatore poi non c'è più altro nella confezionale alimentatore che è bello importante ok eccolo qui alimentatore bello importante dove qua va collegato quell'altro cavo entrambi muniti di questo pratico laccio ben ben fatto ok per tenere corto il nostro filo oppure allungarlo quindi basta staccarlo allungarlo nel caso ci servisse più lungo ok unboxing eseguito adesso vado a collegare il tutto vi mostro come funziona il l'epilatore eccoci qua nella seconda parte del video dove vi mostro il funzionamento dell'epilatore quindi come spiegato prima per accendere andiamo a tenere premuto questo pulsante di accensione il quale va a accendere il dispositivo vi mostra subito intanto la potenza del flash che è uno adesso con anche attivato il raffreddamento raffreddamento che serve che sarebbe questa piccola zona che contorna il flash raffreddamento che serve a alleviare subito diciamo a diminuire l'irritazione della pelle dopo il trattamento del flash dato che il flash produce lievemente del calore il freddo va ad attenuare subito il caldo così da farsi sentire una sensazione più piacevole ecco per aumentare la potenza dovete premere ripetutamente questo tasto quindi premete un'altra volta passa 2 3 4 fino a 5 che è il massimo per tornare indietro ripremete e fa 4 3 2 e 1 ok quindi minima potenza e 5 la massima potenza e per far funzionare il flash dovete premere questo pulsante dopo che vi siete appoggiati sulla zona che dovete appunto depilare adesso lo farò vedere sulla mano io comunque fate finta che questa è la superficie questa è il funzionamento voi dovete appoggiare e premere il bottone come potete vedere qua si accende una luce quando la luce è accesa significa che siamo appoggiati correttamente sulla superficie se siete leggermente spostati e lei non si accende vuol dire che siete appoggiati male non va bene dovete essere sempre appoggiati correttamente quindi con la luce che si accende quindi appoggiate premete e lui fa il flash ok che sarebbe il la funzione di depilare quando dovete fare una una più ampia superficie invece di continuare a premere alzare il dito e ripremere potete tranquillamente tenere premuto il dito qua e direttamente alzare ed abbassare il dispositivo abilita quindi la funzione diciamo automatica dove voi dovete semplicemente alzare ad abbassare tenendo sempre premuto il pulsante della funzione adesso lo faccio sulla mano a 1 per farvi vedere come funziona quindi voi vi appoggiate tenete premuto poi rialzate e riabbassate e di fatti di si accende un altro simbolo che appunto quello della dell'automatico quindi poggiate alzate appoggiate e alzate e così depilare te la la zona che avete giustamente precedentemente rasato con il rasoio manuale spero che questo unboxing e video su come si utilizza questo depilatore vi sia stato utile invito comunque a leggere la recensione scritta perché ci sono altre informazioni che nel video non ho detto e niente vi aspetto in un altro video in un'altra recensione un saluto dal vostro thomas ciao a tutti